E' stata ridotta la condanna che in primo grado era stata imposta a due giovani, Carmelo Martinez e Michael Smecca, girano nella spaccata la gioielleria Rachele in pieno centro storico. Il furto, che gli consentì di mettere insieme un bottino da circa 60 mila euro, avvenne due anni fa nel pieno del lockdown per la pandemia da Covid. Le telecamere dei sistemi di videosorveglianza ripresero tutta la dinamica dei fatti. In appello sul ricorso avanzato dalla difesa, sostenuta dall'avvocato Carmelo Tuccio, sono disposti due anni di reclusione ciascuno. In primo grado, al termine del giudizio abbreviato, la condanna era stata a tre anni e dieci mesi. Dopo l'arresto effettuato dagli agenti di polizia del commissariato, i due ammisero di aver partecipato al colpo. I poliziotti e i PM della procura risalirono ai ladri e a chi avrebbe fatto da tramite per la refurtiva. Un terzo complice a sua volta presente quella notte ha già patteggiato. Il legale degli imputati si è rivolto ai giudici di secondo grado che hanno rivisto in parte l'entità delle condanne. A processo, anche se in un procedimento parallelo, sono finiti inoltre i presunti ricettatori dei preziosi che poi avrebbero avuto contatti con almeno due persone vicini ai titolari dell'attività ai quali sarebbe stata restituita almeno una parte di quanto era stato rubato. L'indagine fu piuttosto complessa e si basò anche su diverse intercettazioni. Alla fine i poliziotti e i PM della procura riuscirono a ricostruire sia la dinamica dei fatti di quella notte che i rapporti poi successivi anche per ricollocare la refurtiva che era stata portata via.